10 minuti di lavoro per tonificare tutto il corpo, tempi bassi ed esercizi fino a 40 secondi. Buon allenamento! Ok, iniziamo. Camminata sul plank, push up e rientro. 5 secondi, ultima, ritorniamo su e ci posizioniamo, squat più apertura laterale. 5 secondi, ok, squat più ginocchio al petto. Controlla bene il movimento di squat e il richiamo del ginocchio al petto. 5 secondi, ultimo, recupero. 10 secondi di recupero, ci posizioniamo, lateralmente, perché andiamo a fare camminata sul plank più push up. Ok, 30 secondi, vado giù, push up, rientro. Occhio ai due movimenti, la camminata sul plank, controllo la posizione, effetto di push up e ritorno su. Occhio, cambio esercizio, skate, slancio. Lo lavoriamo prima da un lato e poi lo effettuiamo tutto con l'altra gamba e l'altro slancio. Cambio. Mano piena a terra, gamba dietro ben distesa, su e andiamo ad effettuare lo slancio. Ok, recupero. Ok, recupero. rientro in su, controllo il corpo, su, camminata, push up. 15 secondi, occhio alla posizione del corpo e delle braccia quando effettuiamo il piegamento. Ok, su e andiamo di squat, slancio, slancio, giù, a terra la gamba dello slancio. Prima partiamo con la destra e poi andiamo di sinistra. 10 secondi, e dopo andiamo giù in plank, lavorando con sollevamento della gamba, alternando destro e sinistro. giù in plank, controllo bene la posizione del corpo e lavoro sulla gamba, rientro, cambio, rientro, cambio, rientro, cambio. Rientro, cambio, rientro, cambio, rientro, cambio, ultimo, rientro, cambio, pausa. Ok, riprendiamo, 40 secondi, posizione, plank, posizione cane sta facendo, cambio, cambio, distendo bene la gamba, controllo il gluteo e l'addome, cambio, via. Continuiamo nella testa, 3 secondi, 1, 2, 3, cambio, ultimo, ok, su e lavoriamo. Camminata, su plank, push up e ritorniamo su. Al termine di questo esercizio, veniamo subito su in piedi, posizione mezzo squat e lavoriamo con i pugni veloci, ultimo, su, posizione, contraggo l'addome, pugno. Ok, recupera, pochi secondi, mancano 5, squat, slancio, slancio, via. Cambia la gamba, occhio, prima la sinistra, occhio che andiamo di destra. 10 secondi, ultimo, e giù. Cosa facciamo? Camminata su plank, fermi, giù, su, e ritorniamo. Occhio sempre, posizione del corpo, addome contratto, schiera su un'unica linea, occhio sempre al passeggio in avanti, al controllo del corpo. E su, pronti, pugno incrociati. Occhio al movimento del corpo, torsione e pugno. Ok, 10 secondi di recupero. E andiamo di a fondo, indietro, alternato. Controlliamo bene il movimento e la posizione del corpo, dando sempre lo stesso ritmo. 5 secondi, e dopo andiamo, camminata su plank e push up. Ok. Pugno, su. Mezzo squat, due torsioni e pugno. Dai, 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 dai. Ok, gambe divaricate. Ispiro, giù, espiro, via, su. Ispiro, giù, espiro. Riteniamo su. E la tua sessione, total body, intermedio, è terminata. Riteniamo su. Riteniamo su. Grazie a tutti.